Servizi straordinari interforze a Santa Croce e Camerina al fine di contrastare la preoccupante escalation di microcriminalità su cui lo stesso sindaco Peppe Di Martino è più volte intervenuto, appellandosi anche al prefetto di Ragusa. Per questo, lo scorso fine settimana, proprio a Santa Croce, si è vista una massiccia presenza delle forze dell'ordine per reprimere ogni forma di illegalità che minaccia la pacifica e convivenza dei cittadini e innalzare anche i livelli di ordine e sicurezza pubblica. La problematica, ampiamente discussa in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, tenutosi, lo ricordiamo, lo scorso 13 ottobre, proprio in prefettura, ha quindi richiesto la pianificazione di mirati servizi di controllo straordinario del territorio. I servizi interforze sono stati organizzati anche con un apposito tavolo tecnico svoltosi in questura con i referenti delle forze di polizia interessate, cui sono seguite le ordinanze del questore di Ragusa. Il dispositivo, ammesso a punto, ha consentito di svolgere un sistema di controllo integrato ad ampio raggio, con l'impiego di diverse pattuglie della Polizia di Stato, tra cui anche quelle della Polizia stradale di Ragusa, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale di Santa Croce e Camerina, con la collaborazione di unità cinofile, antidroga della Polizia di Stato, nonché di unità cinofile messe a disposizione dalla Guardia di Finanza. In relazione alle attività di specifica competenza, il Gabinetto regionale della Polizia Scientifica di Catania ha messo a disposizione della questura specialisti a bordo di camper attrezzato con moderne strumentalizzazioni, per effettuare il fotosegnalamento immediato di soggetti la cui identità non è certa e degli extracomunitari sprovvisti di valido titolo di soggiorno nel territorio nazionale, nonché di eventuali soggetti responsabili di reati. La complessa attività di controllo ha permesso alle pattuglie interforze impegnate di controllare più di 300 persone, 183 veicoli, elevare 41 o contravvenzioni al codice della strada, sequestrare due veicoli e sottoporre altri due a fermo amministrativo, nonché di ritirare quattro documenti per veicoli privi di copertura assicurativa per la responsabilità civile.